Un po' di due, il podcast di Talma Sons Grigné di Savietà L'astronomia costringe l'anima a guardare oltre e ci conduce da un mondo ad un altro. Platone La Chiacarade Bentornati cari ascoltatori a nostro appuntamento con la Chiacarade. Oggi abbiamo il piacere di ospitare tra noi Stefano Codutti, socio fondatore, ex presidente ed ex relazioni pubbliche del cast Il Circo L'Astrofili Talma Sons. Grazie di essere qui con noi oggi e benvenuto. Grazie a voi, è sempre un piacere per me ritornare a Talma Sons. Buonasera Stefano. Mandi. Mandi. Allora, io direi di partire subito con una domanda così, anche preliminare. Ci puoi assumere in poche parole, ma significative, che cos'è il cast oggi per chi non lo conoscesse? Beh, il cast ormai si può dire che è conosciuto dappertutto perché grazie a strumenti, internet, abbiamo un sito da tantissimi anni che è seguito e conosciuto e quindi si può dire che è riconoscibile. Però per chi non lo conoscesse è un circolo di appassionati di astronomia che si dedicano alla ricerca e alla divulgazione dell'astronomia sul territorio, però anche dal punto di vista professionale con delle foto molto tecniche che sono riuscite ad andare persino alla NASA. Infatti se uno va sul sito comete dove ci siamo specializzati sulle comete della NASA, sotto c'è una sezione dove ci sono le comete del circolo astrofili. Beh, direi un progetto comunque, un'organizzazione che, come possiamo già sentire da queste semplici parole, non è nato né ieri né l'altro ieri, ha una lunga storia. Ci può, diciamo, delineare i tratti principali di come è nata questa organizzazione, questo progetto? Beh, questo progetto è nato nel 1992 ad opera di nove soci, fondatori, eravamo in nove persone, nove amici che ci siamo trovati, tutti appassionati ovviamente di astronomia, e a un certo punto ci siamo detti, visto che era già da un po' di tempo che si andava su a Remanzacco, però andare da Talmassons a Remanzacco e ritorno, c'è tanta strada, soprattutto di notte, abbiamo detto perché non facciamo qualcosa qui a Talmassons. Poi io avevo già esperienza di Remanzacco, perché a Remanzacco era già da tanti anni che facevo astronomia ed ero anche nel consiglio direttivo di Remanzacco, mi hanno detto, visto che tu hai già esperienza, se puoi farci da presidente e da indicatore della direzione su cui dobbiamo muoverci, entusiasta, ho detto subito di sì, e di conseguenza siamo partiti. All'inizio ricordo ancora c'era ancora il sindaco Paravan, che era un po' scettico all'inizio, poi quando ha visto che facevamo sul serio, che tenevamo delle piccole conferenze, degli incontri, all'inizio eravamo affibbiati anche col Circo Lobini di Flambro, hanno visto insomma che facevamo sul serio e quindi ci hanno dato adito. Poi il nostro grande idea, il nostro grande progetto era ovviamente poter fare un osservatorio astronomico. All'inizio avevamo pensato di trovare questo posto vicino alla chiesetta di Sant'Antonio, che è fra Talmassons e Flambro. Infatti noi andavamo sempre là a fare osservazioni, perché il cielo era molto buio, il posto era buono, solo che era terreno della Curia e quindi non si poteva fare lì. Poi il Comune appunto è intervenuto, anche perché sapeva che Codroipo ci stava morosando per portarci là, per poter portare l'osservatorio là, e quindi hanno detto vi troviamo il terreno, ce l'hanno trovato appunto dov'è adesso. Abbiamo iniziato appunto tutto il progetto di come fare il tutto e nel 2001 finalmente è stato inaugurato, è venuta a farci da madrina Margherita Hack, che io conoscevo personalmente, ed è stato molto molto bello averla lei appunto a tenere a battesimo l'osservatorio e di conseguenza da lì diciamo poi è esploso il tutto, perché prima ci trovavamo, inizialmente eravamo solo quel gruppetto, poi abbiamo sparso la voce, sono arrivati i primi soci, fra i primi soci voglio ricordare Rolando Ligustri, che poi è stato il mio successore come presidente, è quello che ha fatto decollare il CAS dal punto di vista scientifico, perché se siamo entrati nel giro della NASA e di altri gruppi di ricerche come il gruppo CARA e altri gruppi di ricerche, è stato merito di Rolando Ligustri, che faceva foto molto professionali dal punto di vista cometario. E poi il salto in internet, grazie a Lucio Furlanetto, che è stato il terzo presidente, è quello che ha fatto nascere il sito internet e lo curava giornalmente, era aggiornatissimo ed era talmente diventato bello e importante che è stato censito da T.G. Leonardo come uno dei siti più belli d'Italia e uno dei più grandi d'Europa. Wow! Direi che è un'avventura veramente incredibile. Molta soddisfazione per il caso. Certo, certo. Ma da dove nasce questa tua passione per l'astronomia? Beh, questa mia passione nasce ancora da prima che io arrivassi a Talmassons, perché come ho detto a Remanzacco, l'AFAM, l'Associazione Friarana d'Astronomia, che prima di Remanzacco era a Udine, in Via Tomadini, iniziai da lì. Anzi, iniziai prima in effetti, perché questa passione l'ho avuta fin da bambino. Io mi ricordo che si giocava con gli amici a nascondino e a un certo punto tutti dove è Stefano, dove è Stefano, io ero fermo sotto le stelle a guardare le stelle perché invece magari di andare a nascondermi mi perdevo a guardare le stelle. Affascinato. Sì, certamente. E poi sono rimasto stregato quando da bambino ho visto lo sbarco sulla luna nel 69, quando Aldrin ha messo il piede sulla luna io ero lì davanti al televisore, i miei che mi dicevano vai a dormire che è tardi, e io ho incollato lì che non mollavo e da lì è partita tutta la passione, tutta questa voglia di conoscere, di sapere. Uscirà, penso, a fine anno, perché ha avuto dei ritardi, al massimo a inizi del prossimo, il mio libro Quarant'anni sotto il cielo, edito dall'Orto della Cultura che ho terminato poco tempo fa e parla appunto di questa mia passione che parte appunto dal 69 dello sbarco sulla luna fino al cast e quindi racconto tutte le tappe con tutti gli aneddoti, tutte le curiosità e con tutti i personaggi che ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere perché per me rimangono nel mio cuore oltre a Margherita Hack che ho avuto anche la fortuna di andare a casa sua che è stata un'esperienza incredibile con lei e suo marito e tutti quei gatti che scodinzolavano in giro per la casa ma oltre a lei ho avuto anche la grande fortuna di conoscere Piero Angela, Alberto Angela, Stenoferluga, diversi personaggi che mi hanno arricchito veramente molto non solo dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista umano, persone molto umili, molto alla mano per la quale io sarò a loro eternamente grato, eternamente grato soprattutto quando ero ancora un ragazzino e stavo tempestando di domande Piero Angela e alcuni soci anziani dell'AFA mi dissero fermati, non essere troppo invasivo, no? E invece lui disse no, no, lasciate, è giusto che i giovani chiedano e poi chi è avido di sapere, di conoscere le cose è giusto che venga soddisfatto, no? E mi diede corda a lui invece e alla fine del convivio perché prima aveva tenuto una conferenza alla fine del convivio mi fa ma cosa ti piacerebbe fare da grande? Ma a me sinceramente ho detto da grande piacerebbe poter divulgare astronomia e poter avere un osservatorio astronomico e ricordo ancora le sue parole che mi disse coltiva i tuoi sogni per serva non molare mai e vedrai che si avverano e poi se vorrai fare divulgazione parla sempre come mangi non far vedere che sai le cose con paroloni la gente vuole per riuscire a capire quello che dici le parole più semplici non servono a niente i paroloni e parla come mangi e io ho sempre in mente queste parole sono rimaste scolpite nel mio cuore infatti quando facevo divulgazione in osservatorio all'aperto per insegnare alle persone che venivano in osservatorio a orientarsi col cielo a imparare a conoscere le costellazioni ho sempre tenuto a mente queste parole ho sempre parlato in modo molto terra a terra perché tutti potessero capire l'astronomia infatti anche le scuole sono stato diversi anni anche nelle scuole di Talmassons a tenere lezioni soprattutto nella scuola di Rivignano che è la scuola che quasi ogni anno ci andavo era la professoressa Ursella mi ricordo ancora che diceva avrei piacere se tornasse lei perché quando è stata l'ultima persona aveva paroloni troppo tecnici e i ragazzi non stavano dietro invece lei ha un modo di parlare che ci piace perché è molto semplice e questo mi ha ovviamente inorgoglito e di conseguenza andavo sempre io a Rivignano a tenere queste lezioni per me è sempre stata quasi una vocazione il fatto di divulgare perché penso che intanto conoscere il cielo è una cosa stupenda bellissima io sento ancora dentro di me l'emozione perché è quella che è il motore che ti porta poi a fare tutto anche la divulgazione e il fatto che conoscere il cielo e tenere quello che tu hai imparato solo per te secondo me è una cosa egoistica è giusto che quello che tu hai appreso quello che tu hai imparato dai libri dalle lezioni da quello da tutto quello che hai studiato è giusto regalarlo a chi viene in osservatorio o alle scuole e quindi per me questo è veramente una specie di vocazione volevo chiederti a riguardo dell'osservatorio quali sono le strumentazioni che sono contenute nel nostro quadital massons allora premetto anche che in questo momento io sono rimasto solo socio ho dato 30 anni della mia vita come presidente come pubbliche relazioni e adesso è giusto che cammini da solo ho paragonato come ho scritto anche nel libro come un figlio perché per me il cast è un figlio avendolo fatto nascere sì eravamo in nove però diceva sempre Ezio Cum che è rimasto il mio grande braccio destro al momento che ero io presidente perché vedeva che io ero un vulcano di idee e lui mi diceva tu di e io faccio cioè lui era lui era l'esecutore io ero quello che buttava fuori le idee lui l'esecutore e sarò sempre infinitamente riconoscente a Ezio Cum per tutto quello che ha fatto per il cast nei primi anni perché io dicevo e lui faceva è quindi stata una persona incredibile e di conseguenza tutto il percorso in tutto questo percorso fra queste persone che secondo me le più importanti del cast sono state Ezio Cum Fausto Savani che è quello che ha costruito la cupola cioè non dimentichiamo Fausto perché lui da pensionato ci ha fatto risparmiare più di 20-25 mila euro perché le cupole costano e lui perché di mestiere nella vita faceva il carpentiere ha cesellato ha costruito tutta la cupola lui suo fratello Berto Gino suo figlio che gli dava una mano anche lui hanno costruito l'intera cupola che vedete sopra l'osservatorio e la perfezione perché poi doveva scorrere sulle rotaie perché è girevole e quindi hanno fatto un capolavoro unico e quindi anche di Fausto bisogna solo a riguardo di questo nell'ingresso del nostro municipio della nostra sede municipale abbiamo il prototipo in piccola scala che aveva fatto Fausto esatto per iniziare ad abbozzare i primi i primi disegni e quindi capire sul tavolo come poteva costruirlo in scala reale esattamente e quindi ha fatto veramente un lavorone e poi come ho già detto Rolando Ligustri e Lucio Furlanetto queste sono le persone più importanti per far che è stato per far crescere e conoscere il cast poi sono venuti altri presidenti c'è stato Paolo Beltrame attualmente c'è Cristian Liberale anche lui molto bravo però hanno preso l'eredità cioè queste persone che ho nominato sono quelle secondo me che hanno dato vita e conoscenza al cast tanta gente ecco una cosa anche che ci tengo a precisare parlava solo di me e questo a me è dato non fastidio però era come sminuire il lavoro di tutti quegli altri e tutti quelli che c'erano dietro di me perché non è giusto dare i meriti a una persona sola e quindi ci tengo anche in questo podcast a dire che dietro di me ho avuto una grandissima squadra dei grandissimi lavoratori dei grandissimi professionisti nonostante eravamo tutti amatori che hanno dato vita al cast e quindi ci tengo a precisare questa cosa si potrebbe scrivere un romanzo dietro questa storia perché veramente siamo curiosi siamo curiosi di leggere il suo libro certo appena esce veramente però diciamo in questi come li definisce lei 40 anni sotto le stelle sotto il cielo non c'è sempre stato solo una notte di stelle c'è stato magari un'osservazione un evento un qualcosa che le è rimasto particolarmente scolpito magari nel cuore o che ha che ha avuto la fortuna ecco di assistere c'è qualcosa in questi 40 anni più di qualche evento per dire un grosso bolide il bolide sarebbe una stella cadente che in realtà non sono stelle ma come spiego quando viene l'agente in un osservatorio sono dei pezzettini piccoli di rocce alcune anche cappocchie di spillo e qualcuna come un sasso che entrano a forte velocità nell'atmosfera terrestre e si disintegrano ionizzando lasciando la scia proprio i primi anni di vita del cast quando facevamo ancora le serate a Sant'Antonio uno è stato veramente grandioso che ha illuminato il cielo a giorno mamma mia si è sentito proprio il rumore del suo passaggio e poi un suono sordo di quando è caduto a terra di fatti è caduto in Austria ha attraversato l'Adriatico è caduto in Austria e quindi questo ha illuminato il cielo a giorno eravamo tutti esterefatti un momento fortunatissimo per un astronauta esatto esatto poi il più bello in assoluto è stato l'eclisse di sole del 99 lì organizziamo una trentina di vetture e siamo andati proprio nel centro dell'eclisse che cadeva a metà dell'Austria sopra Graz eravamo esattamente nella cittadina di Langenwag e quindi proprio per avere il punto preciso perché a Talmassons arrivava la copertura fino al 98 quasi 99% di copertura del sole ma non totale invece là era la totalità e quindi abbiamo organizzato questa trentina di auto come militari abbiamo messo inizio colonna fine colonna su tutti insieme in Austria che fra l'altro è stato bellissimo perché oltre al fenomeno astronomico abbiamo cementato la nostra amicizia siamo diventati tutti una famiglia perché siamo rimasti a dormire là nelle tende e quindi lì abbiamo appunto familiarizzato e diventati una famiglia al cast e poi quando il giorno dopo doveva arrivare l'eclisse era nuvoloso la sera prima aveva anche piovuto eravamo tutti un po' demoralizzati invece il cielo poi è stato aperto non si è aperto del tutto però si è aperto da permetterci di vedere l'eclisse e questa è una cosa che secondo me tutti dovrebbero poter avere la fortuna di vedere perché è una cosa da pelle d'occa mi ricordo c'era con noi un anziano di oltre 70 anni che ha detto oddio oddio in central times non hai mai veduto un eroebio perché appunto è una cosa che ti lascia spiazzato perché tu vedi l'ombra nera che avanza sulle montagne e che mangia proprio il giorno e diventa notte poi arriva da te e vedi il sole che diventa nero il cielo diventa buio vedi le stelle più brillanti e lì fra l'altro in Austria le mucche si sono messe a dormire gli uccelli hanno smesso di cantare e questo quanto tempo è durato allora lì se non ricordo male 6-7 minuti perché era bella consistente come durata poi eravamo proprio al centro abbiamo studiato di andare proprio nel centro preciso dell'eclisse e quindi è durata parecchio sì abbiamo fatto il video ho portato il dvd dove c'è il video dell'eclisse è quella secondo me la più grande esperienza perché appunto vedere di giorno che diventa notte all'improvviso vedere le mucche nel prato che si sono messe a dormire gli uccelli hanno messo di cantare hanno percepito il cambio sì sì hanno percepito il cambio è una cosa incredibile vedere le stelle di giorno è una cosa incredibile e questo penso che sia stato uno dei fenomeni in assoluto poi un altro fenomeno la pioggia delle leonidi che sarebbe come le lacrime di San Lorenzo che in realtà si chiamano Perseidi perché tutti questi questo sciame sembra provenire dalla costellazione del Perseo le leonidi invece è un altro gruppo un altro gruppo appunto di meteoriti che sembrano provenire dalla costellazione del leone e succede questo in novembre e quel novembre c'è stato un novembre perché noi li abbiamo seguiti per diversi anni c'è stato un novembre adesso non mi ricordo di preciso l'anno era a fine anni 90 mi sembra c'è stata una vera e propria pioggia cioè non sapevi da che parte guardare cadevano 3-4 al secondo cadevano cioè tipo tipo uno spettacolo pirotecnico e qualcuna lasciava una scia persistente tanto che le abbiamo fotografate e il picco massimo è avvenuto al mattino verso quando stava ormai nascendo l'alba e abbiamo siamo stati tempestati da telefonate di gente che andava a fare il turno di mattina delle sei che si è fermata per strada e ha detto cosa è la fine del mondo perché vedevano piovere proprio piovere stelle cadenti e anche quello è stato un fenomeno veramente molto 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 bello ma in tutte queste esperienze quanto è influito l'inquinamento luminoso di cui oggi si fanno tanti riferimenti anche per l'osservazione delle stelle Stefano volevo chiederti riguardo al nostro osservatorio astronomico quali strumentazioni all'interno troviamo? Allora abbiamo avuto diverse strumentazioni nell'arco degli anni inizialmente siamo partiti con un telescopio rifrattore che è un telescopio a lenti molto molto lungo con una focale molto lunga e inoltre c'era il telescopio classico sociale da 35 cm di specchio che è quello che è tuttora modificato inizialmente lo strumento era di configurazione si dice Newton in quanto un particolare percorso di luce permette di avere un certo tipo di configurazione però era troppo grande che per poter vedere poi le persone dovevano salire su una scala molto in alto e diventava un po' pericoloso pericoloso di conseguenza l'abbiamo modificato abbiamo fatto una configurazione che si chiama smith-cassegrine dove adesso invece di salire si sale sempre sulla scala ma molto in basso addirittura puoi anche senza scala vedere quando oggetti molto alti e adesso la visione ce l'hai proprio direttamente dal fondo del telescopio mentre prima guardavi da in parte è sempre lo strumento da 35 centimetri è stato tolto il tubo lungo ed è stato messo vicino invece un altro strumentino poi fuori invece c'è un un altro container dove c'è il telescopio fotografico perché in cupola una volta facevamo sia didattica sia divulgazione che scientifico di conseguenza veniva fatto tutto lì poi abbiamo acquistato un telescopio specifico per sola fotografia e quindi per dati scientifici addirittura uno strumentone dove è stato fatto anche un fido con la BCC a quel tempo perché non avevamo soldi abbastanza nonostante il comune è sempre venuto incontro e anche diverse banche perché è uno strumento da mezzo metro di diametro 50 centimetri uno specchio da 50 centimetri quindi potentissimo solo fotografico con quello non vedi fai solo fotografia e quindi abbiamo due strumentazioni quella divulgativa che è in cupola e quella scientifica che è in questo container grazie molto interessante devo tornare all'osservatorio perché è sempre bello vedere anche le attività per mettere in moto l'osservatorio l'apertura della cupola e tutto quello che sono i preparativi e un altro evento che mi ha colpito molto è stata la grandiosa cometa Alebop che molti di voi la ricorderanno perché anche chi non era appassionata dell'astronomia chi non sapeva niente la vedeva se la trovava davanti esattamente era immensa era talmente luminosa che era impossibile non vederla e lì noi siamo andati anche sul Matayur a fotografarla per avere foto molto più dettagliate della coda ma anche da Talmasson si vedeva molto bene io ricordo in particolare una sera che era molto alta in cielo e mi è venuto il matto ho detto cavoli deve passare sopra il campanile di Talmassons e sono andato per tutto il paese a cercare la posizione giusta per poterla vedere lì sopra il campanile e verso le 4 del mattino mi sembra 4 e mezza del mattino da via Sant'Antonio sono riuscito a vederla sopra il campanile e gli ho fatto una foto che è venuta talmente bella che il don di prima don Enrico voleva avere una foto gigante da mettere nel suo studio perché ha detto cavoli la cometa sopra il campanile è eccezionale è venuta una bella foto quella lì e un'altra bella foto che ho fatto sempre di quella cometa era nella casa rossa che è giù per andare verso Torsa che sapete quella casa lì è rotta e diroccata senza finestre e l'ho fotografata attraverso la finestra cioè passata e sembrava dentro la finestra le trovate anche sul sito del cast queste foto sono le foto più suggestive secondo me che io sono riuscito a fare dal punto di vista non scientifico ma dal punto di vista coreografico a riguardo di fotografie prima ci parlavi della pioggia di stelle cadenti ma visto che sono così veloci come fate ad immortalare l'attimo in cui passano e lasciano anche la scia allora lì ci vuole una macchina fotografica col tempo lungo perché non puoi fare un semplice click lì devi lasciare aperto l'otturatore per almeno 20 secondi oltre 20 secondi no perché dopo vedi le stelle che diventano strisce e quindi per una ventina di secondi ovviamente diventano strisce per il moto di rotazione della terra e poi avere fortuna che in quei 20 secondi che tu apri l'otturatore passi attraverso e quindi ci vuole anche fortuna ma lì hai parlato di pioggia di stelle cadenti per cui chi ha avuto la possibilità di fotografarle avrà avuto tante immagini a disposizione allora allora c'è da dire che quella mattina lì foto per sfortuna non ne abbiamo fatte quella mattina lì ne abbiamo fatte durante la sera quando la pioggia era meno consistente chiamiamola così la pioggia lasciava lasciava come si dice lasciava il tragitto che ha fatto lasciava la scia persistente e quindi riuscivi a fotografare la scia che rimaneva sparsa nell'atmosfera c'era un tempo lungo in cui poter fare una fotografia lì sì lì sì si era anche un po' avvantaggiati in questo caso e anche quelle sempre sul sito si trovano queste scie persistenti che vengono modificate anche dall'atmosfera invece bisogna avere fortuna per fotografarle sì perché devi lasciare aperto l'otturatore e sperare che passi attraverso ma per chi utilizza il telescopio quanto ha influito l'inquinamento luminoso l'inquinamento luminoso ha influito tantissimo infatti noi abbiamo fatto diverse campagne contro l'inquinamento luminoso per la sensibilizzazione fortunatamente Dalmasso è venuto incontro dopo diversi anni che si stava dietro a questo perché gli astrofili non è che vogliano spegnere le luci vogliono che sia usata correttamente l'illuminazione con luci cut off cioè che buttano solo sul manto stradale possibilmente a sodio a bassa pressione sia per una luce meno invasiva e anche per minori consumi perché poi alla fine tutte queste luci che sparano dappertutto oltre a inquinare siamo noi contribuenti che andiamo a pagare quindi è un costo anche ma principalmente un discorso di salute perché si è scoperto che vanno a incidere anche sui tumori vanno a incidere soprattutto sui ritmi circadiani che sono i ritmi di sonno oveglia vanno quindi a sballare il nostro sonno si non è per capriccio è per sostenibilità no no non è per capriccio e poi anche tanta flora e tanta fauna che ne ha risentito per dire i chirotteri che sarebbero i pipistrelli molti sono morti a causa dell'inquinamento luminoso che li ha starati ma non solo loro gufi civette molti i rapaci notturni molte falene è un danno è un danno totalizzante non solo è un danno ecologico certo è di salute grazie tutte queste tutti questi aspetti di cui abbiamo parlato adesso sono state e senz'altro almeno secondo me ma penso possa confermare anche lei delle piccole sfide dalla nascita del progetto al cast che conosciamo oggi dal problema dell'illuminazione alla strumentistica al rapporto con il pubblico quindi la divulgazione sono state tutte delle piccole sfide che poi hanno portato alla realizzazione di questo grandioso progetto di questa grandiosa organizzazione prima di chiudere questa nostra chiaccarade vorrei chiederle lei 40 anni fa ha alzato il volto al cielo e ne è rimasto ammagliato fino a oggi per chi oggi invece alza per la prima volta lo sguardo al cielo e rimane così commosso così ammaliato come lo è stato lei cosa consiglia a chi si vuole dedicare magari proprio all'osservazione amatoriale beh innanzitutto di cercare cieli un po' bui quindi andare fuori dai centri abitati andare nelle campagne o meglio ancora in montagna come facciamo noi che andiamo periodicamente sul monte Matajur o in altre montagne per avere cieli più neri dove si possa vedere ancora la via Lattea una cosa che ormai nelle città non si vede più anche a Talmasson solo in serate molto molto buie dove non c'è anche tanta umidità si riesce a vedere e oltre alla via Lattea ci sono tanti oggetti che a caso dell'inquinamento luminoso che ci riferivamo prima non si possono più vedere quindi per chi inizia cercare cieli bui anche iniziare con un binocolo io ho quando iniziato a 14 anni perché non avevo possibilità di acquistare ancora un telescopio ho iniziato con un binocolo già un binocolo ti permette di vedere la galassia di Andromeda che è come un battufolo di cotone come una stella sfocata oppure gli anelli di Saturno se hai un binocolo potente i satelliti di Giove Giove e i suoi satelliti perché non dimentichiamoci che Galileo nel 1610 non aveva un vero e proprio telescopio aveva un canocchiale con delle lenti di 6-7 centimetri che si è costruito da solo che si è costruito da solo e quindi erano dei vetri molto piccoli e di conseguenza anche con un piccolo binocolo Giove con i satelliti Galileiani che sono 4 si possono venire già con un binocolo poi se uno vuole fare lo step successivo già per dire il classico dove tutti noi abbiamo iniziato che è uno specchio da 11 centimetri e 114 millimetri classico che si trova non ha costi esagerati da lì si può partire una cosa che consiglio vivamente di prenderlo comunque motorizzato per seguire la rotazione terrestre e possibilmente col computerino degli oggetti perché cercare oggetti se uno non è pratico non è facile e può demoralizzarsi e dire cavoli non trovo devo puntare quell'oggetto non lo trovo invece se uno ha il computerino con gli oggetti memorizzati è sufficiente che punti la stella polare e due stelle che conosce quindi gli basta conoscere e poi il computer ha in memoria più di 20.000 oggetti da poter puntare e quindi questo è quello che consiglio a chi vuole avvicinarsi a questa bellissima scienza che nonostante sono passati 40 anni per me è sempre stupore a livello scolastico dicevi che facevate degli incontri qual è la domanda la domanda più strana che un bimbo ti ha posto le domande più strane possono essere quelle sull'UFO che anch'io da ragazzino studiavo l'UFO poi invece in 40 anni non ne ho mai visto uno anzi racconto spesso quando si fa le serate che in realtà una sera quando era ancora l'AFAM ancora in Viato Madini non eravamo ancora a Remanzaco eravamo sul tetto e abbiamo visto un gruppo di UFO in formazione tipo frecce tricolori però non erano aerei cavoli siamo rimasti allibiti stanno invadendo la terra abbiamo detto erano proprio a forma a forma di V erano a un'altezza strana non facevano rumore cavoli presto abbiamo preso un telescopio abbiamo puntato e dopo che abbiamo puntato ci siamo messi tutti a ridere erano delle ocche selvatiche che stavano migrando erano a oltre 7000 metri di altezza perché le ocche vanno su fino a quelle altezze e quando migrano il sole era da poco tramontato e gli batteva nella pancia mamma mia e quindi noi come abbiamo puntato il telescopio abbiamo visto questi pennuti che sbattevano le ali e quindi ci siamo fatti una grande risata quindi allora io dico come diceva anche la grande margarita sarebbe egoistico pensare che ci siamo solo noi nell'universo perché l'universo è immenso ci sono miliardi di stelle e adesso con i potenti telescopi nuovi abbiamo scoperto che ci sono migliaia anche di pianeti extrasolari dove ci potrebbe anche essere la vita quindi egoistico pensare che ci siamo solo noi però i tempi e le distanze sono così enormi che la possibilità di un incontro extraterrestre è infinitesimale bassissimo e quindi i dischi volanti sono solo bagianate ok fantasia diciamo fantasia sono bagianate diciamo che ci sono certi fenomeni atmosferici che ancora non si riesce a capire bene da cosa sono provocati tipo le luci di Eisdalen che succedono nei paesi nordici poi ci sono i fulmini globulari anche quelli sono molto strani ci sono i fenomeni che ancora però sono fenomeni atmosferici non sono dischi volanti e poi dico sempre io durante le serate ma pensiamo che se ci fossero veramente gli extraterrestri giocherebbero con noi a nascondino o verrebbero per conoscersi o per colonizzarci quindi non esistono e la domanda più strana è stata quella degli UFO dei ragazzini sì secondo me è quella oppure sull'astrologia anche quello è un campo minato perché ecco io dico sempre ai ragazzini o alle persone che mi parlano di astrologia bisogna leggerla perché è stupenda conoscere le costellazioni come sono nate tutte queste miti e leggende nate dalle popolazioni antiche gli antichi sumeri i babilonesi gli egiziani che hanno dato vita a queste figure mitologiche è una cosa stupenda da leggere però da qui a dire che i segni zodiacali influiscano su di noi non è vero niente perché questi oggetti sono talmente lontani che l'unica che può avere influenza su di noi è la luna con le sue maree che ci fa provocare le maree alla nostra terra o la crescita delle piante è solo la luna che può ma invece che i pianeti e tutti gli astri abbiano influenze sul nostro carattere sono tutti speculazioni e com'è che spesso ci azzeccano così allora ma perché forse ci facciamo troppo influenzare ci facciamo influenzare e ci portano dove vogliamo per dire c'è un bellissimo gioco di carte che io so fare che io ti porto dove voglio io e tu credi di aver scelto tu la carta e così è l'astrologia loro sono talmente mentalisti talmente bravi a portarti lì che tu dici cavoli hanno ragione in realtà non c'è nessuna influenza diciamo che comunque sì è una realtà che fa parte di questa scienza come altre lo fanno negli studi di altre scienze pensiamo ai terrapiattisti con lo studio per esempio entriamo in un altro campo mincato non provocare esatto no 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 non voglio fare niente direi che ormai siamo giunti alla conclusione della nostra della nostra chiaccarade non ci resta che davvero ringraziare di cuore il signor Stefano per dire ci sono questi che vedete libri che io conservo dove ci sono dentro articoli che io ho conservato sin dalla nascita del Circo L'Astrofili perché ovviamente senza di questi non avrei potuto scrivere il libro perché ricordare tutto a mente non si riesce e di conseguenza tramite questi che fra l'altro c'è la mostra a pannelli la mostra fotografica a pannelli che abbiamo presentato l'anno scorso durante il trentesimo del Circo L'Astrofili che era in esposizione nelle scuole e quindi chi vorrà vedere ci sono anche questi pannelli dove c'è il primo documento del cast le prime foto del cast le prime riunioni del cast e via via fino ad arrivare ad oggi e tutto questo sarà anche nel mio prossimo libro troviamo sul vostro sito orari di apertura eventi in programmazione allora posso dare un piccolo come si può dire anteprima più che anteprima modo di capire quando andare in osservatorio allora in osservatorio l'osservatorio aperto una volta al mese nel durante sempre di venerdì durante il primo quarto di luna quindi quando voi vedete in ogni mese il primo quarto di luna il venerdì più vicino al quarto di luna è senz'altro aperto all'osservatorio questo perché durante il quarto di luna perché il momento migliore per il neofita anche perché la luna piena non si vede perché ti acceca e hai delle immagini piatte il quarto di luna ti permette la tridimensionalità della luna ed è favoloso vedere tutti questi crateri e ovviamente poi c'è il calendario che si trova sul sito e su facebook c'è la prenotazione perché mentre una volta facevamo entrata libera adesso per questione di sicurezza per questione di tutto si fa a prenotazione tramite Eventbrite si va su facebook si vede l'evento che viene pubblicato e ci si prenota bene non c'è oppure gruppi privati chiedono telefonano o al presidente o al segretario e dicono io vorrei fare una serata come gruppo privato e si organizza allora la serata specifica come abbiamo fatto con diverse associazioni oppure quando è stato molto bello quando sono venute le frizzi tricolori da noi quando siamo andati noi a fare l'astronomia in base a rivolto cavoli avete fatto un sacco di magari conferenze di riunioni di questo tipo bene io direi veramente che non ci resta altro che ringraziarti davvero di cuore per questa tua importante testimonianza che fa parte della nostra terra della nostra piccola realtà ti auguriamo veramente il meglio sia come persona che anche al cast a questa tua eredità come tu hai chiamato in questo nostro podcast speriamo di riavverti al più presto con noi è sempre un piacere grazie Stefano grazie a voi un saluto a tutti gli amici di Talmassons mandi grazie grazie mille dal Vanseli se on Mark in che volta Gesù al comparì ai undi se ur di sé l'hai perduto il monte e predichai il Vanseli a ogni creature quel che al croderà e si farà abbiato al sarà salvato ma quel che non croderà al sarà condannato e questi sono i segni che accompagnaranno che i che crodi tal non appariranno fuori demoni affevelaranno l'enghi sgnovi acchiapparanno in man sarpini e s'avaranno bevuto qualche veleno non farà male ammettaranno le man sore dei malati e che avoricheranno il Signor Gesù dopo di velo affevelato al fu portato in Cile si sentà alla destra di Dio allora loro all'erring a predichia partut biel che il Signore all'operava insieme con loro e al confermave la peraule cui spiei che gli accompagnavi benissimo siamo arrivati al termine non dimenticatevi di seguirci sui social su tutti i social su cui siamo iscritti e di mettere like a questo video ciao